no ma questo è proprio brutto conto sta pure la gang cacchio sballano questi non si che spaccare non mi fa mettere nemmeno l'inventario non so brillando per le soli si arriva a mettere almeno in costruzione ma non avevo fatto allora a me c'è uno ad aiutare a spaccare io non posso spaccare qui c'è ehi perché hanno fatto delle cose sui che c'è per non parlare che te ne prego per la domanda no, ora vado io sto facciandolo a far tutto appena finisci beh ho spaccato tutto sicuro guarda ho spaccato tutto spaccate oh 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 guarda il razzo eeeh oh che figo che merda c'è già stato lo stesso evento migliore ehh molto più bello che cacchio è che qua lo costruisce a me non possiamo fregni ma non si fanno neanche qua la ah è da voi tutto qui è la venta adesso vediamo cosa si steglia con questa gente vediamo cosa si steglia con questa gente vediamo cosa si steglia con questa gente vediamo cosa viene oh è andata qua dove vediamo cosa viste Perchè? Perchè? Ho questo, ho un razzo! Cioè è ugualissimo alla season 4 o 3 Cosa sto sennendo? Un trirad? Oh Cosa non sei raggi? Ma sei cinque cosa amanti a me? Io ho la fila di altri Oh! Guarda quanti raggi! Ma come stanno a bibbarlo perciò? E' quello il fatto che mi chiedi Ma chiede voi qui Boh Io sto qua Cioè guarda quanti! Cioè questo è l'evento della season 4 Un uguale 3 C'è l'evento più giusto C'è l'evento più giusto Non si capisce l'evento Non si capisce l'evento La mese ora! Guarda la mese ora C'è l'evento più giusto Sicuramente Non è un barco giuslacco Non è un barco giuslacco Non è un barco giuslacco C'è quello che dovessero andare prima C'è ora come se Guarda Oh! Mi fa facciare le missioni Oh! Io sto volando Oddio E che vince! Sto volando Oh! E che vince! E' meglio vince! Guarda il centro Sono in cielo E' lei Guarda il centro E' lei Guarda il centro Guarda il fiume Guarda il fiume Oh! 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 Sono uscito da l'arte Tutto da una parte Tutto da una parte Eh! Fa schifo! No! Che schifo! Si è chiusa? Oh! 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 Non sto più a Rimpugarlo insieme Lo schermo Ma questo è il segno di una nuova Sotto nero In una nuova era Oh! Oh! Che c'era mia madre Ora anche io vedo tutto nero Voi vedete è verde Io tutto o bianco Sotto nero No, io arancione Paricamento Ora si sta riprendendo Paricamento quindi l'inscrito sotto carica ammettiti scelta grazie